uè non fare il barbone da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci xiodarone dai bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xiodar e ragazzi abbiamo un sacco di novità anche oggi per quello che riguardano i prossimi giorni di fortnite ne stanno succedendo davvero di cotte e di crude soprattutto alle 3 di los angeles ragazzi dove un sacco di easter eggs spoiler anticipazioni da parte di brand mondiali e di personaggi di fama mondiale stanno tralasciando appunto tante novità tante meraviglie che arriveranno sul nostro battle royale nel video di oggi ragazzi parleremo ovviamente e faremo chiarezza sulla collaborazione con stranger thing ragazzi una serie televisiva per chi non la conoscesse pronta a fare la sua collaborazione personale con il nostro fortnite ma anche un video sempre direttamente dalle tre che ci mostrerà in game le nuove skin che stanno per arrivare insieme alle nuove skin o anche un paio di altri video se ho tempo ve li faccio vedere molto molto interessanti sulla modalità propometic è assurda è assurda e in chiusura ragazzi israele denuncia arriva una denuncia serissima da parte di una compagnia israeliana ai danni di fortnite vi dovrò sapere ovviamente voglio prima ringraziare tutti coloro che si iscrivono al channel e che utilizzano il mio codice creator xyuderone grazie di cuore ragazzi per sostenere mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live ma prima è la domandina raga la domandina prima di iniziare ve la devo fare oggi la domanda è un po particolare diciamo che la rivolgo ai giocatori di save the world ma vale per tutti qual è il tuo banner preferito dei war game in save the world ce ne sono tantissimi tra questi davvero molto molto belli il tuo preferito qual è a me ragazzi piace tantissimo quello in alto a destra con il meteorite sarà che ho un debole per le fiamme ditemi qual è il vostro preferito qua sotto nei commenti ma quindi ciao ciao le bande e bando alle ciance andiamo subito subito ragazzi a far chiarezza anche del disastro che è accaduto ieri durante la pubblicazione ufficiale della modalità scatto dell'orda non tutti sono riusciti a giocarla ahimè ragazzi io ho avuto la fortuna di farci una partita in squad e devo dirvi che è nostalgicamente meravigliosa nostalgicamente per un paio di motivi motivo numero uno ve l'ho già anticipato anticipato in live bellissima l'idea da parte di epic games di portare una porzione di arcade nel battle royale cioè arcade vuol dire war human versus computer quindi squadra da 4 contro orde di mostri numero 2 nostalgico perché ragazzi ci sono tutte le armi rimosse e mandate in magazzino abbiamo trovato il vampa abbiamo trovato il pompa del nonno abbiamo trovato le trappole di ghiaccio abbiamo trovato un sacco di robe ragazzi non abbiamo trovato i soldi vabbè a parte questo ragazzi modalità che merita davvero tantissimo di essere giocata purtroppo non hanno specificato da cosa si è causato il crash dei server probabilmente dalla enorme mole di utenza che ha ovviamente voluto partecipare dovrebbero tornare disponibili oggi si si riprova indicativamente o in mattinata o verso le 15 potrebbero di nuovo tornare disponibili le partite nella modalità scatto dell'orda mi raccomando ragazzi noi io spero una cosa forse non tutti di voi c'erano ma nella season 3 quando ci fu un grandissimo crash dei server che buttò giù fortnite per 24 ore o qualcosa del genere ci regalarono questo backpack che non è altro che il backpack della skin signore della ruggine si si è della season 3 probabilmente qualcuno lo ricorderà alcuni non lo ricordano magari ci regaleranno qualcosa anche a sto giro chi lo sa ma andiamo avanti ragazzi e finalmente eccoci qua ovviamente parliamo del più grande appuntamento videoludico mondiale come ogni anno le tre si rinnova con tantissime novità e ovviamente epic games con donald mustard non mancano di dare un po di anticipazioni su cose su quello che potrebbe accadere intanto ragazzi la cosa più interna una delle cose più interessanti è questa immagine questa è un'immagine presa direttamente da uno schermo di gioco che ci mostra la nuova skin in game vi faccio vedere ragazzi un uno spezzone di video ecco qua sempre ripreso dal da uno schermo che mostra appunto tutte le nuove skin che arriveranno in game bellissimo punto di rottura che non sarà uno stile ma probabilmente sarà proprio una skin a sé un po come love ranger e il dark ranger per intenderci bellissima anche calisto ragazzi una delle più belle di queste patch e di queste nuove skin che verranno rilasciate nei prossimi giorni osmodeus è l'ultima invece che viene proposta molto molto carina ma se devo essere sincero a parte che mi piacciono tantissimo i soldatini di plastica ma anche calypso è veramente tanta roba ovviamente non sono queste le uniche novità che arrivano ragazzi voglio farvi vedere ve lo spoiler raga ve lo ve lo spoiler guardate guardate lascia perdere questo pezzettino della nuova modalità propometic c'è in mano sta pistola tu punti uno pro e diventi un oggetto raga guardate cosa succede adesso cambio oggetto raga raga non ci credo ma dai ma dai ma vai in giro col pullman raga io non ho davvero parole meravigliosa meravigliosa questa modalità con propometic con il propometic ne approfondiremo ovviamente appena ne sapremo di più era un'anticipazione questa ma finalmente fortnite stranger thing che cos'è chi sono quelli di stranger things ragazzi stranger thing innanzitutto è un telefilm arrivato oramai alla terza stagione lo potete vedere ovviamente su netflix che parla sostanzialmente di una cittadina ambientata negli anni 80 nella quale sparisce un ragazzo un dodicenne che dal nulla da un giorno all'altro sparisce e nello stesso giorno compare in un laboratorio una ragazzina senza capelli con poteri cinetici quindi poteri paranormali da qua ragazzi si susseguono una serie di eventi che ovviamente non sono proprio ordinari perché noi parliamo di fortnite stranger things ragazzi perché arriva un tweet di juve kigli che cioè juve kigli voi noi non lo conosciamo ma è uno dei più grandi giornalisti mondiali che tratta videogiochi principalmente oltre ad essere un presentatore televisivo netflix just eased that there is more stranger things content coming soon to fortnite games netflix twitta dice lui nel suo tweet che ci saranno tante altre cose relative a stranger things da parte di fortnite ed eccolo qua invece il tweet ufficiale di netflix che dice in questo e3 nella tradizionale nel tradizionale stile delle tre vi diciamo qualche teaser bello tasty boh croccante bello figo ragazzi del relativo all'upcoming projects with javour ubisoft roblox and epic games e con epic games ovviamente perché si è inteso stranger things beh ragazzi perché se noi andiamo a vedere questa immagine che è una delle immagini ufficiali della serie non notate nulla di particolare guardate guardate quelli insegnala in alto ragazzi quelli insegnala in alto non è altro che questa insegna lo scoops haoi quindi la gelateria che è presente ai magazzini tra l'altro un'immagine del telefilm serie tv ci conferma che c'è un protagonista che lavora proprio nella gelateria haoi quindi ragazzi molto molto figo ci sarà una nuova collaborazione non vedremo l'ora di vederla e quindi di giocarla beh ragazzi io vi ringrazio tantissimo anche per aver guardato questo video un bel pollicione in su non dimenticate di iscrivervi al canale noi ci vediamo in live tra una mezz'oretta ciao